Ciao ragazzi sono Andrea e vi do il benvenuto alla lezione numero 15 del corso di cardistry siamo già arrivati alla lezione numero 15 di questo corso dove potrete imparare cardistry partendo da zero dalle basi fino a essere capaci a fare cardistry e a inventarvi i vostri tagli delle vostre mosse oggi vi vado a spiegare un ventaglio di una mano diverso da quello che già vi avevo spiegato ma appunto sto facendo questa sezione dei ventagli perché è importante nel cardistry imparare a fare i ventagli perché poi si potranno unire ai tagli o semplicemente si potrà far vedere che siete bravi a fare di tutto dal taglio di una mano al ventaglio al taglio più complesso alla fioritura al display al fisarmonico a tutto quello che volete quindi oggi andremo adesso vi faccio vedere se non lo conoscete vi faccio vedere che cos'è poi andiamo alla spiegazione prima di cominciare condividete il video ovunque come sempre grazie ci vediamo ora bene ragazzi siamo arrivati alla spiegazione del ventaglio di una mano inverso ovvero diverso da quello che avevo spiegato un paio di lezioni fa vi avevo spiegato questo ventaglio di una mano quindi dove si teneva il mazzo da sopra oggi vi andrò a spiegare quello inverso ovvero dove la mano è piegata sotto e si va a aprire se fatto lento questo viene brutto come quello di adesso questo bisogna farlo relativamente veloce così si aprirà in modo omogeneo la differenza di questo rispetto all'altro è che l'altro veniva aperto diciamo in modo quasi verticale le carte vedete che fanno poca poca curvatura poca piega questo se fatto veloce rimane rotondo sulla mano rimane un semicerchio a differenza dell'altro le differenze sono queste ovviamente come l'altro si può fare con tutte e due le mani cioè una volta imparato potete farlo perfettamente con tutte e due le mani come vedete è bello da vedere perché è un semicerchio e rotondo sembra quasi adesso poso un attimo un mazzo sembra quasi un ventaglio normale questo è il ventaglio normale questo è il ventaglio con una mano reverse infatti se notate si apre il contrario così si apre il ventaglio normale quindi da sopra a sotto così si apre il ventaglio reverse da sotto a sopra andiamolo a vedere allora è molto difficile da fare con il mazzo intero e secondo me non ha nemmeno troppo senso vi consiglio di farlo con metamazzo proprio per il fatto che se dovete aprirne due almeno avete un mazzo solo e potete aprire il ventaglio quindi allora andiamo a prendere metamazzo vi faccio comincio a vedere dalla mano destra ma poi dalla mano sinistra sarà uguale allora dovete tenere il mazzo nella mano sinistra nella posizione che volete perché tanto appunto la mano destra sarà quella importante cosa dovete fare pollice dovete tenerlo sul lato superiore corto quindi qua sopra e tutte le dita della mano devono essere chiuse sotto è una posizione abbastanza particolare perché sembra impossibile che da questa posizione si riesca ad aprire un ventaglio e non è per nulla naturale cioè nel senso se io devo tenere un mazzo di carte in mano lo tengo così lo tengo così lo tengo così ma non lo tengo così così è veramente una posizione strana per tenere un mazzo di carte ma è la posizione che ci serve per eseguire il ventaglio ad una mano inverso quindi mazzo di carte mano a destra pollice si appoggia sopra le dita si chiudono sotto così molto semplicemente come posizione non è difficile ma è strana arrivati qui dovete fare pressione con il pollice quindi dovete stringere bene per avere una base d'appoggio poi andrete semplicemente ad aprire le dita sotto quindi da così che siete dovete andare a fare questo movimento quindi ad aprire le dita pollice ve lo faccio vedere così da sotto pollice guardate le dita si vanno ad aprire e si portano tutte le carte come vi dicevo fatto lento non è praticamente possibile guardate ora ve lo faccio lento solo per farvi vedere questo è il movimento che dovete dare alle carte però rimane molto brutto se noi ci impegniamo e lo andiamo a fare velocemente come vedete rimane molto molto più circolare e più lineare poi ci sarà sempre una mano dove riuscirete a farlo meglio una mano dove riuscirete a farlo peggio quello è normale io riesco a farlo questo ventaglio meglio dalla sinistra come vedete mi viene molto più circolare dalla sinistra mentre dalla mano destra mi rimane un po' meno non è brutto ma mi piace di più della mano sinistra quindi mano destra pollice tutte le dita sono chiuse sotto dovete fare questo movimento quindi aprire semplicemente le dita e portarvi le carte se lo fate velocemente vi si apre quasi da solo con la mano sinistra è la stessa cosa quindi pollice disteso sopra sul lato corto le dita sono tutte chiuse le carte si aprono così in automatico vi faccio anche qua vedere da sotto come rimane rimane un affare del genere ovviamente fatto lento di nuovo rimane brutto quindi dovete farlo velocemente le dita alla fine rimarranno distese e se notate abbiamo la stessa posizione di un ventaglio normale praticamente abbiamo le dita distese sotto e il pollice disteso sopra in questo rimane così la differenza di questo ventaglio è che quando finisco mi capita di avere l'indice piegato ma è una questione mia si può anche tenere disteso come il ventaglio quindi ventaglio dita così pollice così e praticamente la stessa cosa per chiuderlo cosa dovete fare per chiuderlo dovete allora prima cosa aprirlo e l'oprite poi o con l'indice dell'altra mano quindi della mano libera lo chiudete semplicemente così e squadrate il tutto quando avete l'altra mano libera se invece lo state eseguendo con tutte e due le mani così non avete la mano libera per chiuderlo cosa dovete fare lo chiudete al contrario più o meno per come si chiude un ventaglio normale a una mano quindi quindi il ventaglio normale io posso o chiuderlo così come vi avevo spiegato oppure semplicemente chiuderlo dando il colpo quindi la stessa identica cosa se volete il dettaglio potete andarlo a vedere nel nella spiegazione nella lezione del ventaglio io ho le due mani impegnate aperte semplicemente vado a chiudere le dita così vado a ritirare le dita e mi vado a chiamare tutte le carte contro ovviamente fatto veloce rimane fatto praticamente in un unico movimento da così a così anche qua è solo questione dell'allenamento le carte vi cadranno miliardi di volte fidatevi di me non vi preoccupate e allenatevi tanto spero di essere stato il più chiaro possibile spero di aver detto tutto ma penso di sì grazie della visione bene ragazzi siamo arrivati alla fine della quindicesima lezione come vi dicevo siamo già a 15 settimane di corso sono contento che vi stia piacendo e sono più che altro molto molto contento che vi posso spiegare qualcosa che io so che magari voi non sapete tante quindi posso darvi una mano in qualche modo vi ringrazio appunto come sempre per la visione ci vediamo prossima settimana con la sedicesima lezione martedì alle 18 come sempre non vi dico ancora niente lo vedremo la prossima settimana ciao ragazzi